Sono numeri veramente esaltanti, poi la fede è la fede, non si comanda. C'è entusiasmo di nuovo, erano anni che non mi abbonavo e adesso sono tornato. Lo stadio è il gioiello della nostra squadra per cui abbiamo rifatto l'abbonamento anche quest'anno, ma ormai sono tanti anni che facciamo l'abbonamento e siamo contenti di averlo rifatto. Un abbonato fa parte di un qualcosa che va al di là della partita, va al di là della squadra fine a se stessa. Ci si sente partecipi di un qualcosa e noi friulani siamo attaccati al Friuli, alla nostra terra. Borsa? Udinese! Udinese è sempre solo nella... Udinese! 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 Udinese!